E bentornati sul mio canale! Oggi nuovo video! Me l'avete chiesto in tantissimi cosa di farvi vedere la mia collezione di bambole Quindi ho deciso che oggi farò una specie di room tour, non è proprio così, ma vi farò vedere in video tutta la mia collezione Io colleziono da più di 20 anni, colleziono un sacco di tipo di bambole Il tempo fa avevo una collezione secondo me più grossa o comunque avevo dei pezzi più costosi Mi sono un pochino dovuto ridimensionare anche perché ovviamente non ho solo questa passione Ma ho anche la passione della fotografia, della lettura, eccetera, eccetera Detto ciò ci vediamo fra pochissimi secondi perché io vi farò vedere in video tutta la mia collezione A fra poco! Bene, come promesso, allora vi farò vedere la mia collezione Soprattutto tutto ciò che c'è qui dentro Vi farò vedere anche però quella parte lì Io sono lì Ciao, ciao a tutti! Allora, per chi è curioso, quello specchio l'ho dipinto io Perché ho anche la passione dello Shab Chic Allora, dicevo appunto, iniziamo con una carrellata Non voglio che questo video duri troppo Però le bambole da vedere sono veramente tante Allora, qui c'ho l'angoletto BJD Allora, per chi non lo conosce Le BJD sono delle bambole asiatiche particolari Si differenziano dalle altre perché sono in resina Hanno degli snodi a palla o comunque all'inizio era così Poi ovviamente con gli anni sono cambiate All'interno hanno degli elastici Hanno occhi e parrucca intercambiabili E si possono ovviamente truccare Allora, ne ho alcune sparse un po' in giro Ne ho una anche lì, una 1A Ripeto, non voglio perdervi troppo in chiacchiere Lì abbiamo un'Anna della Disney Store Qui abbiamo una Snapdoll Sono veramente molto carine Qui ho un ibrido Ken con un corpo articolato E una testa invece di una Playlight Abbiamo una Momoko L'ultima Momoko che mi è rimasta L'unica Perché in passato ne avevo veramente tante Ma non è il genere di bambole che piace a me Però questo modello, ho comprato un paio di anni fa Mi piaceva particolarmente E almeno una bambole per tipo Ho deciso che voglio averla Delle altre BJD Lì c'è la BJD che ha creato la mia amica Eric La mia amica Cecilia Perdono Cecilia Jolly Rogers Andatela a cercare Ho fatto anche un video dedicato Più di un video dedicato a mia amica Cecilia Andate appunto a vederlo Questa è sempre una Blight customizzata da lei È veramente molto brava Il mio piccolo Jody Abbiamo qualche altra bambolina Una testa licca su un corpo A Zoni XS Un'altra BJD Abbiamo un Takara Abbiamo un fidanzatino della Licca Abbiamo un'altra Blight customizzata da una ragazza russa Veramente molto brava Delle altre BJD Una dolce su corpo Bizzu 11 Ragazzi sto cercando di andare velocissimo Perché veramente ci mettiamo una vita e mezza L'angoletto dei maschietti Che a me piacciono particolarmente Abbiamo delle bambole coreane Delle Playlight Delle Playlight Lì abbiamo delle Blight Ragazzi ne ho veramente tantissime Che manco se vedono Lì abbiamo una Simil Blight È di una ditta spagnola Che in questo momento non mi viene in mente il nome Magari ve lo lascio in video Ho avuto la fortuna di collaborare con loro Mi hanno inviato un pacco con diverse bambole E le ho fatto delle foto Allora scendiamo qua Qua abbiamo invece la parte Delle Pur Nemo Delle A Zon Che a me piacciono particolarmente In passato non ci avevo legato molto Ce ne sono anche di dietro Non avevo legato molto con le Pur Nemo Invece nell'ultimo annetto Un anno e mezzo È scoppiata questa passione Grazie anche alla mia amica Lina Blue Andate a cercare Tokyo Dolls Ve ne ho già parlato Magari vi lascio anche in video Il nome per andarla a trovare In maniera più facile Abbiamo appunto dicevo prima Una 1A Degli unicorni Perché io ho la passione degli unicorni Dopodiché scendiamo al piano di sotto E c'è la mia collezione Di My Child Io mi ricordo che ero piccolo Veramente piccolo Avrò avuto 4 anni forse Andai con mia mamma In un negozio giù in Sicilia Dove appunto abitavo Vidi questa bambola In questo negozio Che costava anche abbastanza Io poi ero piccolino Ero maschietto Si pensava ovviamente Così di non comprare una bambola A un bambino Però me ne innamorai Poi con gli anni Ho scoperto che cosa erano E ho iniziato Questa piccola Grande collezione Devo dire La verità Sono veramente Molto affezionato Lì ho delle altre Cianfrusaglie Dei corpi di riserva Una BJD Che ho intenzione di vendere E vestiti Scarpe Tantissime altre cose Allora andiamo a chiudere Piccolo scorcio Lì abbiamo Delle Candele Della Yankee Candle Prima ero molto più appassionato Adesso Di meno Lì abbiamo Un attaccapanni Sempre che ho dipinto io Qui abbiamo Un angoletto Pandora Prima ero un collezionista Pandora Soprattutto gli accessori Ne avevo tantissimi Adesso mi sono rimasti Solo quelli Ma ne avevo Veramente tantissime Qui ho delle bamboline Che in questo momento Anche mi sta sfuggendo Il nome Sono veramente Molto particolari Perché si riescono A comporre Fra di loro E' veramente Una cosa Molto molto carina La mia nonnina Che non c'è più Altri unicorni Vari E delle altre Yankee Candle Allora andiamo ad aprire Quest'altra zona Madonna ragazzi Veramente Quanta roba Allora Le baby face Ne avevo due Una l'ho venduta Da poco Perché lo spazio Ragazzi E' veramente poco Sono veramente Molto carine Degli altri unicorni Una Reborn In realtà ne ho due Però una La vorrei vendere Quindi non ce l'ho qui Ma ce l'ho conservata E lui è l'unico Che per adesso Mi è rimasto Perché prima ne avevo Di più Altri unicorni La casetta Andatela a vedere Delle Sylvanians Family Ho fatto anche il video Lo trovate sul mio canale Qua abbiamo Delle Nendoroid Un po' di Miscuglio Un po' di Ibridi Io lo so Che tanto mi chiederete Un sacco di cose Nei commenti Allora scendiamo giù Qua abbiamo una Sibarite Che è nuda Abbiamo due Fashion doll agency Ne avevo tre Ne avevo Praticamente due Uguali Di questa Poi una L'ho venduta O l'ho scambiata Non mi ricordo Lì dietro Abbiamo una Misaki Sì Ok Poi qua abbiamo Anche di questo Vi ho parlato in un video Una specie di replica Ma non è proprio una replica Comunque Master of the Unisert Universal La tessitrice D'ombre Se siete curiosi Andate a cercare Il video Qui ragazzi Inizia la Carellata Di Barbie A cui ovviamente Ho cambiato Testo corpo Sono tutte Dei combo Tutte con Corpi Articolati Lì abbiamo Un'altra BJD Molto molto Particolare Che mi piace Tantissimo Diceva appunto Abbiamo un sacco Di Abbiamo un sacco Di Barbie Super Articolate Tutte dei combo Adesso Mingi in occhio In modo tale Da farveli vedere meglio Qui abbiamo Delle Disney Animator Che ho un pochino Cambiato Li ho cambiato Un pochino All'acconciatura E mi sono fatto fare Dei vestitini Dalla mia Customista E qua appunto Abbiamo veramente Tantissime Barbie A cui io Ho ibridato Il corpo Lì c'è Un angoletto Di Ariel Dedicata ad Ariel Che è la mia Principessa preferita Insieme a Biancaneve E infatti abbiamo Anche un pop Proprio di Ariel Anche qua giù C'è dell'altra Cianfrusaglia Degli altri corpi Guardate quanti corpi Ve ne ho parlato anche In un video precedente Ho un sacco di corpi In Di scorta Sempre Articolati Sempre Barbie Allora Poi dopo Allora Piccola parentesi Ce l'ho da tantissimi anni L'ho comprata In un negozietto In Grecia Mi piace Tantissimo Rappresenta Un'ondina Una divinità Del mare Mi piace Tanto Adesso andiamo Ad aprire Questo Ho sempre paura Che cade qualcosa Perché ragazzi È super Super Stipata Allora Nel primo ripiano Abbiamo tutte le cose Dedicate alla Cancelleria Io sono un po' Carto Pazzoso Ho un sacco Di agende Che però Alcune le usate Altre ho paura Di usarle Perché Mi dispiacerebbe Rovinarle Tantissimi Unicorni Perché sono La mia passione Ovviamente Tutto rosa E kawaii Spostiamoci qua Ragazzi Veramente C'è troppa 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 Roba Allora Una Blight Piccolina Annalite Blight Customizzata Da Un'appetit No È una Midle Customizzata Sempre Dalla mia amica Cecilia Fiora Avanti Un'altra BJD Luke Molto Molto Particolare Coreana Che adoro Follemente Abbiamo Una Scooter Un'amica Di skipper Vintage Della Mattel Degli altri Pupazzetti Che pur volendo Non mi ricorderei I nomi Ma di alcuni Di loro Tipo di lei Di lei Ho fatto L'unboxing Ah Ho anche Due orsacchiotti Che io adoro Veramente tantissimo Geremia E l'altro A cui non ho dato Un nome Che ha fatto Sempre la mia amica Cecilia Allora Continuiamo C'ho lui Che è un Lei Anzi È un bellissimo Unicorno Pupazzo Unicorno Me lo sono voluto comprare Troppo troppo felice Anche qui Abbiamo Allora Innanzitutto abbiamo Una lol Unicorno Che è l'unica Che ho Perché mi piace Tantissimo Dopodiché C'ho Due bambole coreane Oddio Mi sta sfuggendo Mi sta sfuggendo Il nome Soprattutto Di lei Che ha Uno ala Lei è uno ala E lei è un'altra Bambola Simile Oreana Simile Olana Coreana Oddio Santo ragazzi Com'è difficile Parlare E cercare Di stare Poi Entro i dieci Minuti Più o meno Perché secondo me Un video Troppo lungo Può Scocciare Alla lunga Comunque Pile4B L'ho trovato In un mercatino Mi piace tantissimo Funziona a tratti Però Non mi interessa Allora Scendiamo anche qui Qui anche c'è un Putpuri di cose Lì c'è una Monsterite Truccata Dalla mia amica Daniela Ricci Anni anni fa E con me Da tantissimi anni Una gattina Troppo troppo Bellina Anche questa Fatta interamente A mano Dalla mia amica Cecilia Poi che cosa abbiamo Abbiamo una skipper Abbiamo degli altri Pupazzetti Una tila Delle Appunto Master of Universe Un'altra cosina Qui che anche di questo Ho fatto il video Unboxing Anche questa Oddio adesso faccio Dei danni Che mi piace tantissimo Sono veramente Molto molto belli Scendendo ancora giù Anche qua Oddio ragazzi Veramente C'è oddio Non vi ricordavo Neanche di lui È un festival royalty Poi abbiamo Alan Che è vintage Abbiamo il principe Neanche di lui Vi ricordavo Il principe Delle Mai Locket lady No Non lo so Forse non l'ho detto bene Anche di questo Vi lascio In sovraimpressione Perché ragazzi È difficilissimo Ricordarsi Tutti Tutti I nomi Abbiamo una Christie Vintage Veramente vintage Là indietro Abbiamo una Evelyn Sempre Di Master of the Universe Come abbiamo Anche Orko Di Evelyn Che è il mio personaggio preferito Lì c'è Addirittura La versione NRFB Mai rimossa Parliamo ragazzi Di bambole Che hanno Trent'anni No Anche di più Perché sono degli anni Ottanta E veramente Sono molto molto Contento Anche qui Qualche altro Pupazzetto Qualche altro Unicorno Per finire Quaggiù Ho la mia collezione Piccolina Di fumetti Alcuni libri Particolari Che ci tengo Appunto In maniera Particolare Qualche altro Unicorno Anche la penna E un'agenda Che mi hanno regalato Ma anche questa Che non voglio Aprire Non voglio Utilizzare Allora Risaliamo Piccola carrellata Anche qui Scusate Il disordine Lo uso ovviamente Come Suota Tasche Ci metto Tutti lì Allora Questa L'ha fatta Fatima Una ragazza Una signora Che è veramente Molto brava Mi ha fatto Questo Maschietto E mi piace Particolarmente Poi C'ho Il gattone Di man Che anche questo L'ho trovato In un lotto E è uno dei personaggi Che comunque Mi piaceva tantissimo Battle cut E quindi L'ho voluto tenere Anche qua Come potete notare Tantissimi unicorni C'è un pacchettino Che mi è arrivato Oggi Io penso di sapere Cosa c'è Farò un video Unboxing Di quello E poi io direi Che possiamo Concludere Il video Facendovi vedere Quest'altro Angolino Dedicato appunto A Biancaneve Con due versioni Di Biancaneve Molto particolari Veramente Molto belle E tutti i settenani Ci ho voluto mettere Anche l'erba Per richiamare Ricordare appunto Un giardino Io ho detto ciò Ragazzi Prima di salutarvi Vi voglio appunto Vedere in faccia Lì ci sono tutti I miei libri Ragazzi Una parte dei libri Veramente Che devo leggere Quindi adesso Pochissimi Secondi Come prima In modo tale Che vi possa salutare Guardandovi negli occhi Ebbene Eccoci qua Oddio Guardo lì Adesso ero fissato A guardare lo schermo Spero che questo Mini tour Velocissimo Vi sia piaciuto Come al solito Mi raccomando Lasciatemi un commento Che a me fa Tantissimo piacere Perché sicuramente Mi chiederete Il mondo Detto ciò Lasciate anche Un mi piace Iscrivetevi Al canale Attivate la campanellina Per non perdervi Neanche un video Perché io ne carico Uno ogni Tre Massimo Quattro giorni Qualche volta Devo essere sincero Sforo un pochino E ne carico un video Anche ogni quattro giorni Detto ciò Ci vediamo Al prossimo video